buongiorno a tutti ragazzi dal vostro carta al curva nord eccoci qua buon lunedì intanto buon inizio di settimana allora oggi ragazzi si festeggia una cosa molto bella molto bella per la squadra più antica di tutta italia e la squadra molto di valore storico e stiamo parlando del genoa che oggi compie i suoi 127 anni della sua gloriosa storia e anche quest'anno riconoscerà anche lei per fortuna dalla serie a come sempre è stata lì cari genoani e che è cara tutta la città di genoa io vi voglio appunto augurare questo felice compleanno alla squadra appunto più antica di sempre e può vantarsi anche di avere ben nove scudetti quindi non è una squadra da prendere sotto campo ha vinto anche tutt'altro però questa cosa mi era rimasta impressa appunto questa gloriosa squadra rosso blu grifona come non mai e oggi eccoci qua si festeggiano i suoi 127 anni di storia io appunto ve l'avevo detto che sarei stato qui a fare appunto anche qualche speciale video appunto sul genoa e tac le ho approfittato per iniziare appunto con il suo compleanno che poi se non erro fra 12 giorni dovrebbe anche ripartire il campionato quindi siamo tutti pronti per accogliere la nuova stagione di serie a 2020 2021 insieme a voi genovani che appunto commentare insieme le partite vi auguro appunto anche di partire con una stagione piena di soddisfazioni perché dai si è preso anche se non sbaglio rolando maran per ripartire appunto alla grande per poter riportare il genoa molto su perché comunque l'anno scorso è stata una stagione molto travagliata appunto per i colori rosso blu ma la prossima sono sicuro che ce la possiamo fare tranquillamente dobbiamo lottare come non mai appunto proprio con gli artigli quindi carissimo genova pronta all'annesima battaglia la nuova stagione perché sono sicuro che ti toglierai tante soddisfazioni sono proprio sicuro e con questo per i tuoi appunto auguri di 127 anni di storia ho voluto dedicarti questo piccolo spazio appunto nel mio canale come giusto che sia perché è giusto dedicare a una grande squadra una grande realtà la più vecchia in italia è una delle più vecchie in assoluto nel mondo del calcio quindi è bello parlare anche di questa parentesi molto passionale perché chi ama il calcio appunto deve amare anche ciò perché è bello vedere appunto 127 anni di storia non oso immaginare quante generazioni saranno passate appunto in questi 127 anni dai rosso blu tra poco comincia la stagione prepariamo riscaldiamo i motori e siamo pronti e carichi per fare una stagione al top con questo ragazzi è tutto dal vostro cartel curva notte iscrivetevi al canale youtube se ci avete crede lasciate un bel like e un commentino seguitemi sempre su instagram cartel official 88 su instagram ciao ciao